Ciao a tutti Challengers, bentornati in questo nostro primo video di Mudfoot. Dopo aver visto le firme di Viale Mancini con la Samp, oggi parliamo di questo gioco di calcio. Io infatti, come vedete, sono già andato avanti nella collezione. E' tipo FIFA, solo che è totalmente gratis, e poi riusciremo dopo a spacchettarli insieme. E allora, a dopo. E come avete visto, ho finito di aprire i pacchetti e andiamo a finalmente spacchettare. Apriamo lo Special Pack. Vediamo. Beh, un inglese, ci può stare, 82. Però diciamo, non è quello che cerchiamo, vogliamo andare fino in fondo. Prossimo pacchetto. New Zealandese, McLaren. Buono. L'86 Speciale, lo apriamo, poi gli altri li lasciamo per dopo. Oh, potrebbe essere, o Toti, Icon Toti. Icon Toti. Pirates, 91. Hai contoti, Pirates, 92. 92, ma che le le. Allora, io le Icon Toti ce le ho già tutte. Quindi, è bellissimo perché è molto buono scambiabile, ma che le le. Buono, buono, buono. Adesso, andiamo avanti, senza svelare troppo e quelli due pacchetti dopo li prendiamo dopo. Special Pick, chi li troviamo? Io prenderei Canetta perché è buonissimo Enzo Fernandez, però non ancora. No. Passiamo con lo Special Pick, sempre. O Diglish o Little Man. Io prenderei Little Man perché è buono. Ultimo. Ah, livello 22, quindi ci danno un pacchetto? Certo, certo che no. Allora, Zola, Osimerni, questo qui è buonissimo. Jwenier, prendiamolo. Ah, è uscito un pacchetto. Sicuramente sì. Prendiamo questo, 75. Io prenderei la figlia. Chi tratta è il più buono di tutti. Allora, non vado più su perché c'è una sorpresa. Icon, potrebbe essere Icon. No, non è Icon. Chi è? Ronaldo 91. No, Enzo è un Talisca. Sembra Ronaldo 91, però va bene anche Talisca. Scusate l'ignoranza. Allora, andiamo sui Random Pack. Subito. Se non mi sbaglio, bella. Fut, chi è? Non dirmi Talisca. Ah, no, ok. Buono, buono, buono. 88 Silva. Good. Ti devo dire, ti devo dire. Alto? Un altro toro. Seba è andato meglio, ma poi... Andiamo. Zizelman. Ha 90 plus. 90 plus. Ho trovato tutto all'inizio. Quindi, brasiliano, no? Beh. Casemiro 91. Doppione, però. Ci può stare. Allora, ultimo. Special Pack o P91 più. Dai, 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 dai. Potrebbe essere Toti. Non è Toti. Chi è Polarco Lewandowski 92. Buono lì. Buonissimo Lewandowski 92. Nuovo. Nuovo. Allora, adesso vi spiego. Ho trovato una persona che, scambiandomi, mi ha dato delle carte. Gratis. Compreso questo pacchetto. Cioè, le carte erano Sanchez e un altro, sempre ai contoti mi ha dato questo pacchetto. Se noi riusciamo ad arrivare a 70 like, apro il pacchetto. Ma proprio in diretta. Adesso. Possiamo o prendere alcuni pacchetti da 80, dai, ne prendiamo 5 da 80 plus. Uno. Che non potremmo trovare carte grandissime, però alcune buone, sì. Grilish. Dai. Buono Grilish. Non il 50 plus. Che potremmo trovare anche carte 88. O di più, Cobel. Sempre buono, ma non è quello che cerchiamo. Terzo pacchetto. Chi troviamo? Barcellona Piqué. Beh, secondo me Piqué è un giocatore che dovrebbe migliorare molto. Quattro pacchetto. Anche se non è giovanissimo. Stones, le pietre. Le pietre. E poi, ultimo pacchetto. E questo è il quinto. Che troviamo? Per Gundogan. Oggi. Uh. Possiamo trovare il pacchetto 89+. Che poi apriremo subito. E ci siamo. Possiamo aprire il pacchetto 89. Fortuna. 89 plus P. Dai. 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 Icon. Almeno. Damme la buona. Mi ha già dato un icon toti. Però damme la buona, no? In inglese. Settichi può essere. Virt doppio. Allora. Allora. Adesso. Mi ho fatto un po' di punti face off. E possiamo aprire dei pacchetti. Io andrei diretto diretto sul 93 plus. E poi ci prendiamo un toti special pack. 40% di trovare un toti. Quindi. È una grossa percentuale. E potremmo trovare un toti. Quindi. Adesso. 93. Dai. 270 coins. Potrebbe essere toti. Icon. E con toti. E toti. E toti raga. E toti. Francese. No. Doppione. L'unico toti. Doppione. Terranandes. Vabbè. Non si può scambiare. Però mi farò dei milioncini. Adesso. Secondo me. Non è il caso di andare a spendere. 300 euro. Il 40% di toti. Però dai. Dato che siete voi. Io lo faccio. Se non 92 più. No. Anzi. Prendiamo due. Random pack. Dai. Due random pack. Primo random pack. Icon. Quindi. Ci può stare. Icon subito così. Spero che me la da buona. Danese. Spero che c'è il brasiliano. Alla prossima. Schmeichel 92. Schmeichel 92. Buonissimo. Ultimo. Pack. Della giornata. Della giornata. Un altro icon. Un altro icon. Dammelo brasiliano. Tedesco. Mamma mia. Rebiki può essere. Lame. Allora. Abbiamo trovato. Carte nuova. Adesso. Come vedete. Non ne ho più. Però. Chi vuole. Può mandarmi. La richiesta. Infatti. Se andiamo su training. Queste sono delle carte. Io mi chiamo. Gabbo Nabbo. E. Mettete sotto. Hashtag. Gabbo Nabbo. E poi. Mandatemi. Richieste di amicizia. Che così almeno. Cercate il username. Così. Quando farò le live. Chi vuole. E può assistere. Può venire a giocare con me. Ok. Ciao a tutti da Challengers. Alla prossima. Ciao.